ma dove la state portando dove dove la state portando capito? ah si lei non vede, lei non vede giusto? no lei non vede Giuliana? Giuliana e Alizia Cagli, fate pazienza cuore davanti a te ci sono io, puoi stare tranquilla se cate cate addosso a me ci sono io scetto 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 privata ottopedia allora siamo qui siamo qui certo dove siamo? no vabbè va bene io la seguo di dietro scetto camminate piano mi raccomando scetto no vabbè ma sicuro che non vede lei non vede vero? ma non fai slim ma cosa? scetto ma sei slimissima no slim scetto guardate il conte che si prepara vedi che Michele è bendata Michele è bendata ok non vede c'è il gradino siamo in conte il conte lasciatela al conte scetto il conte la devi portare in avanti non la fare cadere no vabbè ahhh c'è mi vuoi sposare no vabbè c'è la proposta di matrimonio no vabbè e chi se la può perdere questa scena scetto no vabbè a tra poco a tra poco a tra poco a tra poco